Salve a tutti, ben ritrovati sulla Nuova TV, oggi primo dicembre, ricordo così a mia memoria una forte nevicata il primo dicembre del 1983, un primo dicembre in cui potenza fu bloccata dalla neve oltre 30 cm quel mese, per la verità nel 1983, nevicò per 4-5 volte nel mese di dicembre i dicembre di una volta dicono ormai che non ci sono più, dice la gente, ma comunque i cicli della natura vanno e vengono e quest'anno la neve forte la vedranno questa notte gli abitanti del Piemonte e della Liguria dove in alcune zone cadrà oltre mezzo metro di neve, quindi come vedete poi la natura si prende dei diversivi, una volta nevica al sud una volta a nord, comunque quest'anno rispetto all'anno scorso sicuramente un dicembre più dinamico con una serie di affondi perturbati da nord che stanno già interessando anche in queste ore la nostra penisola vediamo l'immagine del satellite, ci mostra appunto una discesa di aria fredda su tutto il lato centro-occidentale dell'Europa la perturbazione invece che interessa già da questa notte tutto il centro-sud che è quasi stazionale perché le correnti da sud-ovest ripropongono sempre questi fronti perturbati che vanno a impattare contro la catena appenninica quindi le zone tireniche sono quelle più bersagliate dai fenomeni, così come per una rientrante da est anche le zone della pianura padano occidentale vediamo l'immagine ingrandita del satellite, ci mostra appunto la nuvolosità presente sul sud Italia dove sono in atto delle piogge sparse e poi altre precipitazioni sull'appennino tosco-emiliano dove sta nevicando e inizia a nevicare da un paio d'ore anche sull'entroterra Ligure e sul Piemonte occidentale dove come dicevo tra questa notte e domani potrebbero cadere oltre mezzo metro di neve anche sulla Sardegna in arrivo vedete quelle nubi a forma di ciottoli, sono tutti fronti perturbati di instabilità con aria fredda potrà nevicare anche sui 500 metri d'altezza sull'isola andiamo a vedere invece da vicino il tempo previsto per la nostra regione abbiamo visto la perturbazione che ancora darà fenomeni nelle prossime ore man mano si attarderà verso est, quindi si sposterà verso est dove si attarderà sulle zone ioniche quindi un po' di scarite nella serata a partire dalle zone più a nord, nord-ovest della regione poi mano a mano a parte le zone tirreniche avremo un miglioramento la neve sta accadendo in questo momento sui rilievi della Basilicata oltre 1300-1400 metri sulla vetta della Sellata mezz'ora fa c'erano circa 5 centimetri a 1700 metri un po' di più sicuramente la neve sul Sirino dove le precipitazioni sono abbondanti vediamo la giornata di domani, una situazione che vedrà l'avvicinamento della depressione che attualmente si trova tra la Sardegna e la Corsica verso est quindi ci sarà un nuovo peggioramento nel corso della giornata delle condizioni meteorologiche e quindi altre precipitazioni in arrivo, sicuramente dopo tanti mesi di siccità questa è una delle buone notizie riguardo a questo maltempo vediamo la previsione per domani un po' di schiarite ci saranno sulle zone del Vulture Melfese, sulle zone a nord di Potenza sul resto della regione, soprattutto sul Materano le precipitazioni saranno più diffuse con locali temporali sulle zone ioniche dove affluirà un po' di scirocco instabile in seno a questa depressione che appunto richiama aria da sud-est piogge anche particolarmente persistenti anche se non molto forti sul lato meridionale della regione le nevicate tra i 1100 e i 1300 metri in caso di precipitazioni forti sulla Conecresi anche intorno ai 900 metri di quota in serata il tempo tende a peggiorare ovunque con nevicate, questa volta a quote più basse e non escluso che domenica mattina troviamo proprio la neve alle porte di Potenza non penso sulla città ma proprio a 900 millimetri potremmo vedere i terreni imbiancati andiamo a vedere le temperature previste per domani temperature in diminuzione avremo una minima di 2 gradi a Potenza e una minima intorno ai 5-6 gradi a Matera per quanto riguarda le massime 6 gradi a Potenza, 9 gradi a Matera sono valori medi diciamo nel periodo la ventilazione dicevo da sud-sud-est debole in genere un po' più forte nel lato più meridionale vedete più a sinistra, più ad ovest dove appunto più vicino al centro di bassa pressione e i mari tendenzialmente domani sono mossi sia allo Ionio che al Tirreno tra sabato e domenica la depressione come dicevo tende a spostarsi verso est e c'è una cartina del sito olandese, proprio voglio postarvi questa cartina vedete l'alta pressione, la notiamo per le persone esperte vediamo l'alta pressione sull'Atlantico, sulle coste occidentali europee che spinge aria fredda verso sud è una depressione con le lettere T praticamente una a largo della Sardegna un'altra tra la Grecia e l'Albania una depressione vedete piuttosto blanda però è estesa, copre praticamente tutta l'Italia quando le isobere sono molto lontane tra loro vuol dire che c'è anche una ventilazione piuttosto blanda per domani è la prima perturbazione che tende ad allontanarsi verso la Grecia quindi vediamo domenica dopo il peggioramento della notte domenica avremo un po' di tregua su alcune zone della regione sicuramente non sarà così per il Lagone Grese vediamo infatti le previsioni per domenica l'area sud-ovest tra la costa tirrenica e il Lagone Grese sarà fortemente penalizzata dal maltempo piogge diffuse, persistenti, nevicati abbondanti sono previste addirittura 40-50 centimetri oltre i 1200-1300 metri ma la quota su quelle zone potrebbe cadere anche intorno ai 700-800 metri nei rovesci più forti sul resto della regione poche piogge sul lato orientale qualche schiarita si farà sempre più ampia sulla zona del Materano anche sulla parte nord della regione un po' di piogge potrebbero ripresentarsi nel pomeriggio anche qualche nevicata sotto i millimetri quindi siamo sempre ai limiti della città di Potenza non dovremmo avere accumuli se non qualche fiocco di neve sulla città di Potenza è una situazione che poi piano piano tenderà a migliorare durante la notte andiamo a vedere quindi la previsione per le temperature e per la ventilazione la ventilazione da sud-est ruota a sud-ovest questo significa che tende ad allontanare la perturbazione un po' più sostenuto il vento giornata di domenica sul Potentino i mari, il terreno molto mosso, lo ionio mosso le temperature lieve diminuzione su Potenza 1 la minima e 5 la massima invece su Matera 5-6 la minima sempre è intorno ai 10 gradi di massimo un po' di schiarite potrebbero far aumentare di un grado circa la temperatura sulla città dei Sassi dicevo tende il tempo a migliorare lunedì avremo residua instabilità sulle zone interne del Potentino nelle prime ore proprio di lunedì stante un pochino l'aria fredda potrebbe scapparci ancora qualche fiocco di neve pioggia mista neve sulle aree interne del Potentino insomma la neve rimane sempre intorno ai 1000 metri, 900 metri ma difficilmente scende più in basso e sul resto della regione il tempo tende a migliorare con cielo che poi diventerà sereno cielo che è rassenerandosi anche nei prossimi giorni successivi vediamo anche con l'aiuto degli spaghetti ormai tradizionali gli spaghetti visto che siamo ora di pranzo vedete gli spaghetti sono le varie tendenze possibili sulla media e lunga previsione c'è molta uniformità dei vari modelli quindi l'aria piuttosto fredda vedete per 3-4 giorni avremo temperature sotto le medie poi tra il 5-6 dicembre gradualmente le temperature sembrano tornare ad allinearsi verso la media stagionale di 30 anni invece la parte di sotto, in basso del teleschermo ci mostra precipitazioni fino al giorno 4 da lunedì mattina poi per vedete ogni rettangolino consta di 2 giorni quindi per almeno 4-5 giorni non dovremmo avere precipitazioni da lunedì al giorno dell'immacolata non dovrebbe più piovere poi tra l'immacolata proprio tra venerdì e sabato probabile peggioramento vedete si ripresentano le piogge quindi una situazione come dicevo un dicembre molto dinamico quest'anno aria fredda, pioggia, neve navicate in montagne e man mano che ci avviciniamo al periodo più freddo dell'anno poi quando arriverà pure l'inverno astronomico potrebbero esserci anche delle sorprese bianche sotto l'albero per il momento è tutto ci aggiorniamo alla settimana prossima buon weekend buon weekend